Finalmente ripartiamo con una serie di eventi molto interessanti, allegri, si torna a ballare alla palla, quindi il luogo della nostra riviera più gettonato per la musica e per il ballo. Parteremo dal 27 di giugno, quindi da lunedì prossimo, con le più grandi orchestre italiane che verranno qua a Pesaro a suonare, così come i giovedì saranno invece dedicati ai gruppi della provincia di Pesaro, ai gruppi pesaresi, delle eccellenze che suonano in Italia e all'estero e le abbiamo riportate a Pesaro per far ascoltare la nostra musica. A queste iniziative quest'anno aggiungiamo anche una cosa molto importante che è il piazzale d'annunzio, porteremo dell'animazione per bambini, dedicheremo l'intero piazzale alle famiglie, dei turisti, dei pesaresi che vorranno passare delle serate leggere, divertenti e in allegria. Questo partirà dal lunedì 4 luglio fino alla fine di agosto, tutti i pomeriggi dalle 17 alle 19 avremo dell'animazione per bambini e dalle 20 e 30 in poi avremo varie attività, sia animazione, sia sport, sia danza, quindi coinvolgendo anche diverse realtà del territorio.